Buona la prima per la Polisportia Mordonisse che all'esordio in campionato al campo nella località Bagnaturo batte per 3 a 1 gli Aquilani della San Gregoriese. Davanti ad una buona cordice di pubblico che ha colto con soddisfazione il ritorno a distanza di oltre un mentegno della storica squadra delle frazioni, la gara è stata molto combattuta. Alla fine vittoria meritata nei padroni di casa che però hanno rischiato grosso nel primo tempo quando hanno subito due conclusioni insidiosissime che l'esperto Gianluca Torre ha sventato prontamente. Prima dell'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo di 9 anni Marco Calabretta stroncato da un malore mentre giocava con i suoi compagni di squadra del Pineto e per ricordare lo storico dirigente della Morronese Remo Ravenna scomparso negli anni Ottanta. La squadra di Nando Restaino crea la prima occasione del match al sesto con un tiro non sfruttato al meglio da Incani, entra in scena il portiere Torre che dice no ad un colpo di testa di Faiella mandando il pallone in angolo. Sul capolgimento di fronte Pezzullo al ventitresimo manda di pochissimo a lato successivamente si rende protagonista ancora Gianluca Torre che si oppone di nuovo a Faiella deviando in corner il suo diagonale. I padroni di casa salvati dalla bravura del proprio portiere dopo la mezz'ora incominciano ad offendere riuscendo a sbloccare il risultato. Prima c'è una conclusione da lontano al trentottesimo di Giallorenzo che costringe Scimia alla deviazione in angolo. Un minuto dopo arriva la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un angolo Antonio Incani in aria spedisce a rete. Al quarantaquattresimo arriva il raddoppio con Mimo Pezzullo che riceve palla dentro l'area e scarica il tiro battendo Scimia. La ripresa si apre con una conclusione della San Gregoriese al sesto di Ciuffini. Al ventiduesimo la moronese Caleltris, Pezzullo servito da Porretta, mette a segno la doppietta che vale il 3-0. Gli ospiti non demordono e si fanno vedere con Tozzi che riesce a liberarsi di più avversari e scambia con Fioravanti. Si porta poi al tiro costringendo Torre a mandare in angolo. La moronese risponde con una conclusione dentro l'area del nuovo entrato di Camillo. Al trentaseiesimo ci prova Orsini subentrato a Porretta ma sotto porta si vede respingere la palla con il piede da Scimia. Al quarantunissimo gli aquilani accorciano le distanze con Tozzi che raccoglie una palla respinta dalla barriera dopo una punizione battuta da lui stesso. Nulla da fare questa volta per Torre. La gara viene macchiata da un'espulsione nel finale. Al novantatresimo il difensore della moronese Perna protesta per un presunto fallo di mano di Fioravanti della San Gregoriese con l'arbitre Eusebio De Kellis della sezione di Sulmona che estrae il cartellino rosso dopo il secondo giallo. A parte quest'episodio è stato un esordio positivo per la polisportia moronese con gol e tanto entusiasmo che lasciano ben sperare per il futuro. A fine partita con i due presidenti Pier Giorgio Schiavo della polisportia moronese e Roberto Moro della San Gregoriese. Partiamo con il presidente Moro per dovere di ospitalità. C'è stata questa sconfitta alla prima giornata qui contro la polisportia moronese. Comunque discreta la prestazione della vostra squadra nonostante poi il risultato finale. Sicuramente un po' meglio il secondo tempo. Siamo una squadra che dobbiamo crescere, questo è sicuro. Abbiamo grosse possibilità di miglioramento, ci dobbiamo allenare. Forse abbiamo fatto una preparazione non nel pieno dell'attività. Avremmo potuto forse allenarci di più o meglio. Però comunque vedo una squadra che ha voglia di crescere, ha voglia di giocare. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte. Penso che anche loro faranno un buon campionato, cresceranno sicuramente. Hanno meritato la vittoria. Dispiace magari forse qualche occasione buona nostra, ma con un grande portiere così è difficile segnare. Quindi faccio i complimenti a loro, al presidente, a tutti quanti per un ottimo proseguo della stagione. Sì, sullo 0-0 la San Gregoriese ha avuto quelle due grosse occasioni, però la San Gregoriese di fronte ha trovato un super giallucatore che è riuscito a salvare il risultato in quelle due circostanze. Poi le due marcature che hanno concluso il primo tempo, poi il terzo gol nel secondo tempo e quindi il presente schiavo si sente di rivolgere un plauso a tutta la squadra. Sono contentissimo per questo esordio, ma soprattutto abbiamo trovato una bellissima squadra, sia come organico ma anche come persone. Infatti siamo contenti di questo esordio con questa squadra dell'Aquilano e per noi è tutto nuovo. Quindi anche conoscere Roberto è stata un'esperienza per noi positiva e li ringrazio anche per la prestazione che c'è stata nel campo. Anche noi siamo indietro con la preparazione e abbiamo comunque la mancanza di 4-5 persone che ancora sono in fase di recupero. Loro li ho visti benissimo nei primi 15 minuti, noi forse un po' più contratti e dopo siamo usciti sulla lunga distanza per soffrire 20 minuti nel fine del secondo tempo. Ecco, tanto pubblico, tanto entusiasmo era il risultato che si voleva ottenere quest'oggi. Le persone che stanno fuori mi dicono che circa 400 persone, tu sai che per una frazione da 400-800 persone nel circondario è tantissimo questo seguito di pubblico. Come ti dicevo l'altra volta, per noi la Polisportia Moronese è nata più oltre come un movimento di aggregazione, quindi finalizzato dopo tutte le attività sportive che verranno a crescere nell'arco degli anni e che stiamo portando avanti. Complimenti a tutta la squadra e al mister per questa bellissima vittoria e partiamo, come si dice, con il piede giusto. Andremo a trovare sulla prossima partita il Bussi che so che ieri ha vinto di misura 1-0, mi sembra fuori casa, quindi ci vedremo sicuramente, speriamo di portare questo stesso pubblico anche lì a Bussi per questa seconda partita. La prima in esterna per noi. Grazie di nuovo a Roberto e a tutta la sua squadra. Grazie a voi per l'ospitalità e la cordialità. Grazie mille. Buona la prima per la Polisportiva Moronese che è riuscita a vincere per 3-1 qui in casa contro la San Gregoriese. Avete rischiato grosso in due circostanze nel primo tempo, però ci ha pensato un super torre a salvare il risultato e poi sono giunte le reti che hanno determinato questo successo meritato da parte vostra. Restai. Dico di sì, successo meritato specialmente per tutto quello che è avvenuto nella prima frazione di gioco. Nel contesto devo dire che i ragazzi che avevo già preavvertito negli spogliatoi alla fine del primo tempo dicendogli non ci adagiamo sul risultato del 2-0, non facciamo prenderci dalla paura e un pochino i ragazzi invece hanno tradito queste attese, hanno avuto un po' di titubanza, poi c'è qualche ragazzo fuori, non perché gli altri che erano in campo anzi hanno fatto il proprio dovere. Di conseguenza qualcuno era meno allenato degli altri anche per tanti motivi, lavoro, studio eccetera. Però devo dire che nel contesto globale la squadra ha meritato di vincere e poi come in tutte le cose prendi un gol e si può riaprire il tutto, ma fa parte del gioco. Poi per quanto riguarda il nostro portiere io ho cercato di allestire una squadra di ragazzi più giovani e ho portato con me alcuni ragazzi di esperienza, Torre è uno di questi, Torre per noi è uno dei capitani di questa squadra e diciamo che, come dicevo prima, nel contesto sia lui che gli altri hanno fatto il proprio dovere. Forse non ci voleva quell'espulsione nel finale. L'espulsione mi è dispiaciuta e questo è uno di quei ragazzi che ti dicevo che purtroppo è un ragazzo bravo in tutti i sensi ma è uno di quelli che purtroppo si può allenare poco per questioni di lavoro ed essendo stanco in quel momento ha perso anche di lucidità e di conseguenza è venuta questa doppia munizione. Vuol dire che dobbiamo cercare a questo punto di ritrovare qualche altro ragazzo che mi possa giocare perché sostituire un ragazzo come Perno Ottavio, questo ragazzo ad espulso non è facile in quanto a fondamentali, ottimi e quindi ci daremo da fare questa settimana per supplire la sua assenza. Però ci può stare un attimo di nervosismo, ci può stare un pochino tutto, è una partita di calcio, a calcio si gioca a calcio e quindi, però, ripeto, sono cose che fanno parte del gioco. Poi per il resto sono stato contento di questo pubblico che ci ha seguito, dei tifosi, ragazzi che hanno dato tutto per incitare i propri compagni perché sono coetani, qua si parla di ragazzetti, insomma, no? I ingredienti sono ottimi per fare buone cose queste. Ecco, ecco, e poi la società che ci sta dando una grossa mano un po' dappertutto, ci sta un po' di inesperienza attraverso me e qualcun altro tipo Giovanni, la notte dei portieri che stiamo certamente dando qualcosa di esperienza a questi ragazzi che però sono convinto che faranno un buon campionato, un buon campionato.